valeria carlo molto piacere molto piacere e dove alloggia chi lei senti lasciamo perdere questo lei dammi del tuo per favore va bene che bel regalo mi sarebbe piaciuto ricevere una conchiglia bene andrò a fare una passeggiata e un'altra birra non la vuoi ti ringrazio non voglio annoiarci me che non mi annoia affatto mi sarebbe giusto se un bel ragazzo come te si annoiasse con una nonnetta come me una nicchietta allora sai cosa faccio no vado subito a mettere altre tre birre in frigo così non te ne vado che siano belle alcoliche mi raccomando l'acqua fa ruggire e fa morcire le navi